Bello, ti piace? Molto bello. Tienilo pure. Che cos'è? Un puzzle. Ed è quasi finito. Continua tu. Ma se io lo risolvo... ...c'è un premio. Per me sì. Quindi hai scelto. Ha sei modi, sei configurazioni. Si apre e... ...ti taglia. ...e loro si presentano. È il momento. Altre gioie ti attendono. Siamo qui per vederti procedere. D'alle... ...il loro dolore. Il sangue. Tutto per noi. Per che cosa stai pregando? ... ... ... ... Grazie a tutti.